Io ti volevo dire che non è vero che io faccio parte di una setta, capisci? Non è assolutamente cosa te lo fa pensare. Non è vero che io faccio parte della setta, di una no, di tante sette. Aspetta, io faccio parte praticamente di sette sette e non si accende, non si può accendere. Guarda, è prestito, mi porti pure io e la porti. Proviamo con questa, almeno uno. Ecco, questa si è accesa, vedi? Questo è il demonio, la cattiveria e la tua ringiura, guarda, non faccio andare la candela. Allora, Moni, tu hai detto che io faccio parte del Buddha universale, giusto? Ma non è vero, io faccio parte del Cuckoo's Clan. Faccio parte del Neocadocumunalo, poi faccio parte del Testemone del Giavo, di cui qua... Ah, mi sono scordata la Torre di Guardia. Ah, non ci ho messa, vabbè. Poi faccio parte della massoneria, faccio parte delle Brigade Bianche, perché quelle rosse non ci stanno più, e faccio parte del... Pure della setta antica Pitagorica, vedi il pentagramma? Ecco, faccio parte... Aspetta... Ehm, scusate. Poi faccio parte di San Gennaro, io vado tutto l'anno a San Gennaro, non raga, conosci male quello del sangue che si scioglie, no? Eh, e poi faccio parte... Guarda, guarda, vedi la candela, mosce. Colpa tua, Monica. Monica, non devi calugnare la gente spiritista, spirituale, su internet, perché poi dopo vedi il diavolo e vedi il demonio che fa... Non fa accendere le candele, ecco. Ce l'ho da punto, sì. Ah, ecco. Eh, niente, questi sono fiori di carta, non ti preoccupare, non ho fatto male alla natura, perché io rispetto la natura. Eh, questo è un bupazzetto rubato a mio figlio. Rubaglio, 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 ridosano, piangio. Eh, questo qua invece... questo l'ho trovato nell'ovetto di Pasqua nel 1989. Infatti guarda come è involverato, guarda. Eh, che... Qua dentro? Eh, che c'è qua dentro? Non vedo niente questa maschera, che te credi? Pagare 20.000 euro! No, no, non è niente, non è niente. Eh, allora... Aspetta... Guarda, guarda, non se vuole accendere, guarda, 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 come fiocchi, guarda. Eh, eh, arrivederci, arrivederci. Ciao... Ciao... Grazie a tutti.